salve in questo video introduciamo alcuni semplici nozioni teoriche su come funzionano i programmi di video editing e su come lavora un montatore il livello è elementare e adatto a principianti il software usato è snl rgg infiniti ma le nozioni sono generiche e si adattano a qualsiasi software nle di un certo livello in sintesi il montaggio video consiste nello scorrere i media da montare tagliare gli spezzoni che si vogliono usare le clip e ordinare queste clip nella timeline nella voluta successione suddividiamo il workflow in diversi passi 1 raccolta del materiale si parte raccogliendo tutto il materiale che ci serve sull'hard disk di solito esterno si può ottenere un archivio di materiali generici filmati immagini musiche effetti sonori parlati e audio vari grafiche testi e titoli da questo possiamo prelevare i media che ci servono di volta in volta consiglio di strutturarlo in modo intelligente in modo che sia facile cercare e trovare il materiale che ci serve per esempio si può suddividere per tipo di materiale o in varie categorie o per risoluzione o per progetti o qualsiasi altro modo ognuno può creare la struttura che più gli serve l'importante che sia ordinato e razionale impostare i nomi dei file contenuti nell'archivio in modo da essere contraddistinti da nomi descrittivi univoci per esempio con indici numerici progressivi sempre in un hard disk esterno anche lo stesso dobbiamo archiviare i materiali che servono al progetto e i backup del progetto anch'essi organizzati razionalmente invece sul pc di lavoro dovremmo tenere solo la cartella del progetto senza sottocartelle con i soli materiali che servono a quello specifico progetto infatti creare delle sottocartelle del progetto per i vari tipi di media va bene per avere una struttura ordinata ma porta a problemi pratici se spostiamo qualche file o qualche directory possiamo perdere il collegamento tra il file xml del progetto cioè ldl e i vari sorgenti che vengono spostati quando andiamo ad aprire il progetto sul nostro software appariranno dei vuoti dovuta collegamenti persi si dovrà quindi ricostruire il path giusto che il più delle volte significa ricreare il progetto da capo la soluzione semplice creare una sola cartella per progetto dove importare e salvare tutti i file necessari compreso ldl il tutto ammucchiato senza ordine in questo modo anche spostando la cartella i riferimenti fra xml e sorgenti restano interni cioè relativi e non vengano persi anche se media sono ammucchiati senza ordine è comunque importante nominare se realizzare i nomi dei file per poterli individuare facilmente vedremo al punto 3 come rimediare la mancanza di una struttura razionale ricorrendo ai beans per progetti in ambiti professionali che spesso contengano moltissimo materiale le telecamere software nle usati interagiscono importando delle cartelle già preimpostate e creano un database con cui è facile ordinare fare ricerche sul materiale noi non seguiremo questa via perché considereremo i progetti piccoli medi in ambito hobbistico sfrutteremo quindi un'unica cartella progetto nell'hard disk interno con backup e archivio in quello esterno passo 2 creazione del progetto per importare materiali dentro a sinelera gg o qualunque altro software nle ovviamente dobbiamo prima creare un progetto per farlo non basta semplicemente dargli un nome ma dobbiamo anche configurarlo a seconda delle caratteristiche del materiale che abbiamo o meglio ancora secondo le caratteristiche che vogliamo dare al lavoro finale alcune di queste impostazioni sono il numero delle tracce video il formato video cioè l'aspect ratio cioè il rapporto dei lati del fotogramma i classici 4 3 oppure 16 noni eccetera altre impostazioni importanti sono fotogrammi al secondo frame rate o fps video progressivo interlacciato e in questo secondo caso impostare se top field first o button field first o ancora dimensioni dello schermo per esempio full hd o uhd il campionamento audio le numero di tracce audio i canali audio per esempio se nel rgg può arrivare a 32 canali si possono usare anche dei preset già presenti nei vari programmi per esempio si può scegliere un progetto pal o ntsc eccetera come ultimo passo si salva le dl con nome dentro una specifica cartella che sarà l'unica del nostro progetto durante la lavorazione bisogna salvare spesso una pratica intelligente e fare via via copie di backup dell'edl da usare in caso di problemi o ripensamenti è semplice basta fare un salvo con nome all'inizio di ogni sessione di lavoro si dice creare più timeline o che un edl in pratica è una timeline per avere a disposizione il progetto in varie versioni e in vari tempi un concetto da capire è che un software nle usa i file dei media ma le azioni fatte durante l'editing sono registrate in un file edl che è virtuale media ed edl sono file separati quest'ultimo usa i media ma non li altera si parla di editing non distruttivo se si perde le dl dobbiamo rifare tutto l'editing dall'inizio o dall'ultimo backup se siamo stati intelligenti invece se si perdono i media dobbiamo solo riprenderli dal backup e ricostruire collegamenti passo 3 acquisizione del materiale il materiale archiviato nella cartella del progetto lo importiamo dentro il programma per poter avviare l'editing questa fase è chiamata ingest il metodo più comune è usare il file manager interno al programma ma ci sono altri modi a seconda del software per esempio si può registrare direttamente un media se consentito oppure collegare una video camera per importare le sue registrazioni tramite scheda di acquisizione o altri modi ancora in ogni caso otterremo una serie di media accumulati senza ordine si chiamano assets insieme alla rgg ancora una volta il consiglio è sfruttare la struttura interna in modo da razionalizzare la libreria del progetto insieme alla rgg si chiama folders beans in altri programmi spesso si chiamano smart beans o altro si creano le varie sottocartelle delle singole scene dei video dell'audio eccetera se nelle rgg non possiamo creare sottocartelle ma c'è un potente filtro booleano che permette l'entrata automatica degli assets nella loro giusta cartella al contrario della cartella progetto nel nostro hard disk questa struttura è solo virtuale cioè semplici collegamenti e non modifica l'originale struttura fisica bisogna ricordare che i programmi di editing sono non distruttivi creano un file edl che contiene tutte le caratteristiche dei file tutte le impostazioni date tutti i time code e tutte le azioni di editing da noi fatte senza alterare i file sorgenti originali quando eseguiamo il rendering finale del nostro lavoro otterremo il file da noi creato in base alle azioni registrate nelle dl in aggiunta sorgenti originali rimasti intatti a questo punto abbiamo importato il materiale dentro il programma possiamo ottenere informazioni sui vari media e operarci sopra con vari strumenti generalmente cliccandoci sopra con il destro e scegliendo info oppure possiamo eseguire operazioni di selezione di copia incolla o eliminazione in questo caso si può eliminare dal solo progetto o definitivamente il file dall hard disk cosa pericolosa eccetera in genere ci sono anche varie opzioni per esaminare approfonditamente scegliere le varie clip filtrarle e visualizzarle in diversi modi per facilità nella scelta oppure cercarle comodamente quando sono troppe oppure visualizzare il post dove si trovano lungo la timeline ogni programma ha le sue opzioni se nel rgg è completo e comodo da usare sotto questo aspetto per esempio usando la modalità interview passo 4 timeline l'editing vero e proprio ci sono due modi di fare editing con il loro workflow diversi editing basato sulle tracce insimilmente ai software avid e anche a sinel rgg e editing basato sulle clip come premier pro final cut x davinci resolve e quasi tutti oggigiorno inoltre si può seguire un workflow online oppure offline il primo prende direttamente media e li lavora sulla timeline così come sono è comodo e veloce da usare ma solo se si parte da materiale di alta qualità il secondo trans codifica i media in un formato scelto intermedio digitale se si parte da materiale molto compresso oppure proxy se si parte da materiale di alta qualità ed è questo ultimo avvenire lavorato entrambe le modalità hanno vantaggi e svantaggi il vero lavoro di editing si fa sulla timeline con tutte le possibilità di taglio inserimento sovrascrittura e sovrapposizioni che vedremo a breve la timeline a un'estensione spaziale cioè una lunghezza visibile a schermo ma è importante capire che questa non è altro che un tempo ogni successione di frame è caratterizzata dal suo momento ovvero dal suo tempo cioè dal suo time code spostarsi avanti e indietro sulla timeline tramite tasti di play o trascinando il sensore con il mouse oppure usando la funzione goto e inserendo valori numerici significa avanzare o indietreggiare nel tempo scorrendo la successione temporale dei frame se selezioniamo una regione di frame non creiamo un intervallo spaziale ma un intervallo temporale che racchiude i frame dal tempo x al tempo y il time code su cui è posato il corsore si vede in una finestrella sulla sinistra della timeline mentre il relativo frame è visualizzato nella finestra compositor le varie clip che si chiamano edit insieme l'rgg si importano nella timeline su una o più tracce direttamente dalla finestra risorse oppure aprendo le prima nella finestra di war in modo da esaminarle e tagliare le parti da trasferire sulla timeline si parla di screen editing o editing a tre punti quando si passa dalla formazione di clip nella finestra di war questo secondo caso ci porta ad un primo concetto molto importante la modalità inserimento o sovrascrittura in inserimento l'edit viene trasferito nella timeline a partire dal punto indicato dal corsore tutti gli edit a destra dell'insertion point vengono spostati verso destra cioè avanti nel tempo per far posto al nuovo edit inserito alla fine la traccia risulterà allungata del tempo corrispondente alla clip inserita il problema è quando gli edit che vengano spostati sono in sincronia con delle tracce audio questa sincronia viene persa perché sarà solo la traccia video ad allungarsi mentre le tracce audio ma anche altre tracce video non interessate rimangono nella posizione originale in sovrascrittura detta anche impropriamente sovrapposizione invece l'edit trasferito sulla timeline copre gli eventuali edit presenti a destra del punto di inserimento il risultato è che la lunghezza totale della traccia non cambia e non si perde la sincronia con eventuali tracce audio però si perdono le parti degli edit già presenti che vengano sovrapposte naturalmente si può fare anche l'opposto eliminare una clip in modo che gli edit restanti si riarrangino ad occupare lo spazio libero spostandosi a sinistra per esempio le funzioni del o cat oppure eliminare un edit lasciando vuoto lo spazio che occupava prima senza riarrangiamento delle clip restanti la funzione mute nel primo caso la traccia si accorcia cioè siamo nella modalità inserimento nel secondo caso la lunghezza della traccia rimane inalterata cioè siamo nella modalità sovrascrittura un altro concetto molto importante riguardo all'operare sulla timeline è il cursore insertion point insieme alla rgg che indica il time code della traccia ore minuti secondo i fotogrammi per esempio serve da punto di partenza del playback e anche come abbiamo visto è il punto di partenza di operazioni quali sovrascrittura inserimento o di copia incolla è anche il punto dove si crea un taglio e ovviamente indica il fotogramma e viene visualizzato sulla finestra compositor se tutte queste operazioni le vogliamo fare su una regione degli edit invece su un unico time code possiamo fare una selezione della regione oppure creare un intervallo tramite gli in out point per memorizzare alcuni time code utili sulla timeline si possono usare le etichette o marks un ultimo concetto importante riguarda l'uso dei proxy anche se abbiamo un sistema potente si può sempre pensare di lavorare su copie di dimensioni ridotti e o a più basso bit rate dei file originali in modo da rendere più fluido il playback cioè lo scorrere avanti e indietro sulla timeline il lavoro di montaggio non risente della diminuzione di risoluzione e quindi della perdita di qualità visiva per cui è possibile usare anche grossi rapporti di scalatura invece nella successiva fase di post processing ci possono essere alcuni strumenti plug in che richiedono le dimensioni originali del filmato per non penalizzare o addirittura compromettere il risultato dobbiamo quindi avere la possibilità di tornare al formato originale quando è necessario durante la lavorazione e poi nel rendering finale terminiamo qui il video per non farlo diventare troppo lungo e rimandiamo al prossimo video dove approfondiremo l'editing sulle tracce